Bene, questo è il nostro primo kart da scooter, non è il primo kart da scooter che la Malossi ha fatto perché abbiamo già altri, in passato ha fatto altri progetti di kart da motori però questo ci teniamo particolarmente perché nel panorama scooter penso che siamo stati gli unici a questo punto a aver fatto un prodotto di questo tipo quindi le caratteristiche principali, se lo vogliamo illustrare nella sua parte esterna per poi dopo tenere per ultimo il cuore, la parte viva del motore si sente appunto, quindi la parte fondamentale sono questo il kart è di dimensioni più lunghe per quanto riguarda l'utilizzo su uno scooter tipo Z perché come ben sapete Piaggio ha fatto due versioni, possiamo distinguere nel panorama degli scooter di 50 cm3 con due lunghezze diverse, i veicoli ruota da 12 perché ovviamente le devono alloggiare comunque in diametro maggiore in diametro maggiore e un scooter con ruota da 10 e inizialmente loro hanno definito due passi, chiamate due interassi diversi noi per ragioni di unificazione e anche perché come ne parlavamo stamattina già nel 96 noi con lo zip, quando Mauro Sanchini faceva parte del nostro team interno ufficiale molto attento alla messa a punto, abbiamo cercato come vedere all'interno del regolamento di allungare l'interasse per avere una migliore guidabilità quindi già all'epoca si cercava di poter allungare il passo dello zip perché nel veloce aveva dei limiti notevoli a questo punto abbiamo fatto delle prove prima di partire installare un motore già a passo lungo all'interno del telaio zip e ha dato degli ottimi risultati quindi a questo punto noi abbiamo decretato la partenza come interasse lungo che quindi era polivalente per la versione ruota da 12, runner e tutta la famiglia e i veicoli ruota da 10, in particolar modo lo zip ovviamente non si discute che il motore dovrebbe essere a liquido perché è questo il punto l'altro punto fondamentale è stato, definito al passo cercare di integrare il freno a tamburo e il freno a disco cosa non semplice di semplice soluzione no, assolutamente questo a mio avviso è un vanto del nostro ufficio tecnico perché ovviamente si è prodigato tantissimo per cercare di riuscire a montare la pinza sempre originale per evitare di spendere ulteriore fare investimenti ulteriori sul motore quindi la pinza freno originale piaggio dei veicoli e il tamburo, il freno a tamburo e quindi il carter viene venduto con due perni che sono da montare a seconda se l'utilizzo è tamburo oppure da non montare se l'utilizzo è disco siamo riusciti a installare a predisporre uno spazio molto maggiore all'interno del carter per le puleggie posteriori e nonostante tutto utilizzare il coperchio carter ovviamente dove c'è la pedalina con gli interassi originali in modo anche qui da non aggravare il team e il pilota nell'acquisto di un carter completo coperchio diverso quindi questo è anche importante per poter dare ai team in questo momento non investimenti faraonici oggi come oggi c'è questo carter qui può montare qualsiasi tipo di cilindro dal 50 originale esatto al 70 all'80 fino al 90 che poi è il vostro top di gamma esatto che difficoltà avete avuto per esempio nella progettazione del carter quindi del braccio per quanto riguardava il discorso torsionale esatto qui ovviamente non è previsto un motorino di avviamento che sembrava anacronistico per disporre la versione del motorino di avviamento anche perché non e creava delle problematiche ovviamente della struttura perché va a indebolirlo in maniera pesante in maniera pesante manca il miscelatore ecco infatti questi particolari qua cioè praticamente c'è il miscelatore la pompa la pompa dell'acqua il motorino di avviamento che sono partiti hanno lasciato spazio per poter lavorare sulla rigidità esatto e proprio per il discorso di rigidità la pompa dell'acqua in particolar modo oggigiorno ci sembrava anacronistico utilizzare una pompa con un trascinamento che poi alla fine perdeva potenza era un motore che doveva guadagnare quindi la pompa esatto andiamo nel cuore andiamo nel cuore che da dove siete partiti voi per la progettazione proprio diciamo dalla parte racing del carter della cosa cioè che è qui esatto questa zona qua dove sono alloggiati i pacchi lamellari esatto ecco è importante far vedere la differenza che c'è fra il pacco lamellare del nuovo C1 esatto e il pacco lamellare che è stato usato fino adesso sì è evidente la differenza di dimensioni del pacco lamellare che veniva utilizzato nel carter originale Piaggio che è da sottolineare il fatto che questo non è l'originale è già un pacco di dimensioni maggiorate ma era quello che era possibile inserire inserire nel vecchio carter senza nulla togliere al prodotto Piaggio ecco per amor del cielo cerco di stare fermo con le mani perché sono altrimenti ecco questi sono il nostro che abbiamo inserito qui all'interno è un pacco lamellare con quattro fissaggi l'originale Piaggio ne aveva due con problemi di tenute quindi e le dimensioni per non dimenticarci che è la parte fondamentale e la posizione perché l'originale era montato in questa maniera noi invece siamo andati su una conformazione diversa anche questa ha comportato parecchie rivisitazioni interne con la struttura ecco la cosa importante è proprio stata nella presentazione del motore dove inserire e dove mettere la lamella perché non è è la parte fondamentale è il cuore del motore due tempi esatto e questa è stata una ricerca abbastanza complessa perché avevamo un tema libero però l'unico vincolo è stato il poter mantenere i prigionieri con l'interasso originale come dicevo prima per non fare un progetto dove per forza una persona doveva un team acquistare anche un gruppo termico nuovo con costi anche qui importanti quello che mi facevi vedere sull'apertura della lamella qui si vede che va proprio a sfiorare l'albero motore per cercare abbiamo utilizzato la valvola lamenare eliminando gli stopper naturali mettendo solo un balestrino in modo che la valvola si adagi completamente e il letto dove di fine corsa siano le due estremità del carter anche perché cercando di evitare gli spazi nocivi perché sappiamo che un due tempi non gradisce poi un motore da corsa sarebbe stata una bestemmia questa altra cosa interessante è proprio questo c'è comunque un carter che è studiato per le gare quindi per le grosse sollecitazioni che ci sono e avete fatto ulteriori modifiche una delle più importanti è essere passati dal cuscinetto di banco a sfera al nuovo cuscinetto che viene passato in kit a rulli esatto questo è un altro punto importante anche qui un'altra sfida perché originariamente Piaggio utilizzavano dei cuscinetti 20-52-12 e noi siamo passati da un 20-47-14 quindi una gabbia più solida e abbiamo un appoggio maggiore perché infatti il carter originale Piaggio andava in sofferenza perché purtroppo l'appoggio era molto stretto poi c'era un problema di lubrificazione che tutti i nostri team conoscono perché purtroppo il montaggio era molto difficoltoso e questo ha permesso di avere un appoggio maggiore e abbiamo fatto tantissime prove e abbiamo utilizzato un cuscinetto a rulli perché nella dimensione 20-47-14 era disponibile a rulli nella parte variatore dove qui va tenuto in considerazione una cosa molto importante tutto il gruppo trasmissione variatore in particolar modo la cinghia è esposta tantissimo rispetto al cuscinetto come tu puoi notare ci sono quasi 60 mm di sbraccio dell'albero motore dove il cuscinetto fa uno sforzo enorme oltre a sopportare la grande potenza che ha il motore deve anche lavorare e purtroppo il carter dopo poche gare non era più andiamo a vedere un altro piccolo segreto di questo motore qui che è rappresentato dal raffreddamento dall'impianto di raffreddamento esatto una cosa molto importante da dire cioè che praticamente col lavoro fatto con questo nuovo carter si ha una temperatura si è riuscita a avere una temperatura omogenea dalla testa esatto alla base del motore per cui un funzionamento sempre abbiamo cercato appunto di mantenere che già è presente nel carter originale Piaggio il raffreddamento del sottocarter eliminando la pompa dell'acqua però mantenendo e cercando di prolungarlo ulteriormente per dare una temperatura più omogenea al carter e al cilindro e alla testa cercando di evitare ostruzioni nella conformazione del cilindro da avere una velocità e un movimento dell'acqua molto superiore per poter smartire ovviamente le prestazioni e le potenze del nuovo cilindro ecco un'altra cosa importante possiamo usare dei carburatori siamo quasi alla fine possiamo usare un carburatore molto più grande ora qui è montato un 28 certo questo è un 28 ma noi crediamo che il giusto equilibrio possa tranquillamente spostarsi fino a 30 addirittura 32 quindi questo è l'altra cosa importantissima è l'accensione prima aveva bisogno di un supporto ora insomma era purtroppo abbiamo fatto i miracoli ecco qui nella parte che in questo momento non si vede l'accensione classica nostra rotore interno che è anni che produciamo che abbiamo adattato a un motore che era nato per andare a fare la spesa e lo abbiamo portato in pista con prestazioni del resto poi comunque straordinarie ora si installa perfettamente all'interno del nuovo carter senza bisogno di supporti interfacce quindi si centra perfettamente e con le sue tre viti di regolazione si può tranquillamente mettere in fase velocemente grazie grazie grazie